E' iniziato lo shopping natalizio e la ricerca di regali per se stessi e per gli altri a costi abbordabili. Grande affluenza al Bari Max Shopping Village che per l'appuntamento più atteso dell'anno si è trasformato in un fantastico luogo incantato. A guardarlo sembra proprio aver indossato l'abito più elegante per rendere onore ai visitatori. Un vero e proprio colorato di valce palcoscenico a cielo aperto dove ad esibirsi sono in tutti i fine settimana che accompagnano il Natale entusiasmanti artisti circensi, giocolieri, clown e acrobati. Un'atmosfera particolare e unica con migliaia di luci che illuminano le vie ed i piccoli del parco. Per i più piccoli anche la casa di Babbo Natale e i grandi mega store ai quali dal 7 dicembre si sono aggiunte le interessanti nuove proposte commerciali offrono ora l'opportunità di fare acquisti in un'atmosfera particolare ed unica capace di soddisfare ogni tipo di desiderio. Un'area commerciale ampia e diversificata che nel tempo è cresciuta e si è radicata sul territorio sostenendone lo sviluppo e le opportunità di lavoro. Dal supermercato all'arredamento, dalle calzature all'abbigliamento, dall'elettronica e beni per la casa, dagli accessori trendy ai prodotti per le neomamme, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Grazie a tutti!